Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi vi faccio il video unboxing, come detto, dei titoli maggiori con più contenuti Ovviamente che non siano semplicemente magari giochi dove devi scrivere di carte e cose del genere Ma con tanto contenuto all'interno della scatola, vi farò sempre due video Il primo, come in questo caso, sarà l'unboxing e il successivo sarà il cosa ne penso Oggi vi faccio l'unboxing di Ankh, Divinità Egizie, che è il nuovo gioco di Khmon, di strategia, logistica e battaglie Che vi porta nell'Antico Regno, nell'Antico Egitto, un gioco che ricorda molto da vicino Rising Sun Solo questa volta visto in chiave appunto dell'Antico Regno dell'Egitto Dove dovrete andare a impersonare una delle varie divinità che si combatteranno fra di loro per dividersi appunto la mappa dell'Antico Regno Gioco veramente molto interessante e iniziamo subito con l'unboxing Confezione del gioco, veramente immensa, guardate quanto è alta e quanto è grande rispetto alla mia mano Ankh, Divinità Egizie, vedete, le classiche divinità dell'Egitto, le statue e poi anche il disegno è fatto veramente ragazzi Spettacolare, da classico posterino da appendere Gioco della Khmon ed edizione italiana a cura di Asmo d'Italia Apriamo All'interno troviamo il regolamento di gioco Che è veramente di chiarissima e facile lettura Dove ci vengono presentate le divinità principali dell'Egitto Vedete, ovviamente, immancabile il Diorà Con tutte quante le miniature Ci fa vedere quindi il contenuto qual è La mappa, il tabellone di gioco E tutte le regole, ovviamente sono divise in esagoni Ma è veramente, veramente molto, molto facile Poi ve lo spiegherò meglio nel corso del Cosa ne Penso Sotto abbiamo il libro degli scenari Che sono ovviamente gli scenari che potranno essere giocati Perché è diviso in scenari e missioni Poi tutte quante collegate a formare una campagna Poi abbiamo una bella paccata di token Ce ne sono veramente tantissimi, guardatela quanto è spesso Da defustellare, quindi c'è veramente tanta, tanta roba E da quest'altra parte c'è il tabellone di gioco Che come vedete è diviso tutto quanto in esagoni Tabellone di gioco che poi andrà setappato A seconda dello scenario che avrete scelto Sotto una bella scatolona con tutte quante le miniature Che come ci si può aspettare da un gioco dell'Akmon Sono bellissime e tante Nel sottoscatola abbiamo le plance per ogni divinità Con tutti quanti i poteri E poi abbiamo le plance unione E poi tutte quante le miniature dentro la scatola Che come vi dicevo, ma non c'è da stupirsene in un prodotto dell'Akmon Puntano tanto su queste cose Abbiamo tante miniature con tutte quante le basette colorate Sia per quelle più grandi che quelle più piccole Abbiamo anche dei token Con sopra ovviamente i colori delle varie fazioni Con l'Ak, il simbolo dell'Ak della vita E guardate quante miniature ci sono all'interno Che sono veramente bellissime E sono tutti quanti i servi delle varie divinità dell'Egitto Quindi che vanno a seguire un po' la forma e l'aspetto e le sembianze Della divinità che servono, che seguono in battaglia Quindi sono già divise per colore Abbiamo anche qui un pacchettino con all'interno cammelli Che sopra portano attaccate risorse Per poi spostarci sulla parte di sotto Che ora vado ad aprire e ve la faccio vedere avvicino E ragazzi c'è da impazzire Cioè guardate che spettacolo Che dettaglio quelle più grandi Cioè guardate che No vabbè sono paurosi ragazzi Siamo arrivati veramente ai livelli Secondo me l'Akmon si sta spostando anche verso il modellismo a questo punto Perché fanno veramente dei lavori disumani Guardate la classica figura La classica spinge se vogliamo Dell'Antico Egitto No io per queste cose impazzisco Forse non ve l'ho mai detto Ma sono fanatico io della cultura dell'Antico Egitto Della Duat e di tutto quanto Sono veramente cose bellissime E poi qui abbiamo le divinità Questo è Amon Guardate che bellezza come è messo La classica posa un po' da Osiride No faraone D'Egitto e Nume protettore dell'aldilà Guardate questa qui Questa dovrebbe essere Non voglio dire una bugia Perché non ho ancora visto le carte Ma dovrebbe essere la Dea Mat Dovrebbe essere se non erro E poi il Eh vabbè Il guardiano Dell'oltretomba Anubi Il dio sciacallo E poi ovviamente Qui vediamo qualcosa Penso che saranno Servi di Sobek Di sicuro Perché vedo una specie di coccodrillo E ragazzi Le miniature sono Mejai Forse Mumie Qualcosa del genere Sono veramente Spettacolari Seguirà a breve Un video Cosa ne penso E ragazzi Direi che Veramente Ci siamo Secondo me Queste Dipinte bene Le potete utilizzare Anche per altri giochi Magari Wargame E cose varie Ce le metti Tranquillamente Anche In giochi tipo Warhammer E cose del genere Magari in mezzo In mezzo a non morti E cose varie Sono veramente Bellissimi In mezzo a non morti